Torna in carcere Muhammad Amrathana, afgano di 21 anni, già destinatario di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica d'Imperia, nell'ambito dell'indagine, che agli inizi dell'anno si era conclusa in contemporanea con quella condotta dalla DDA di Milano, con l'esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi per traffico di esseri umani. Le indagini avevano consentito di disarticolare alcune strutture criminali organizzate a livello internazionale ed operative anche su Ventimiglia, che a fronte di pagamenti di somme di denaro trasportavano in tutta Europa cittadini extracomunitari provenienti dalla Siria, dall'Egitto, dall'Eritrea e dal Sudan. Muhammad Amrathana aveva un ruolo di assoluto rilievo. Era già stato arrestato a Ventimiglia in flagranza per il trasporto di 14 migranti stipati in un furgone in condizioni disumane, ma era riuscito a far credere di essere un semplice migrante ed era stato scarcerato. L'attività di indagine condotta congiuntamente dalle squadre mobili di Imperia e Cremona e dal settore polizia di frontiera di Ventimiglia aveva evidenziato una realtà ben diversa, cioè che l'afgano, già in quell'occasione, era al vertice di un gruppo criminale. Dopo un breve periodo di carcerazione gli era stata concessa la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Imperia, Cuneo, Torino e Aosta, ma il giovane era tornato a Ventimiglia per riorganizzare il traffico. Da qui il nuovo arresto che segue di alcuni giorni le catture di altri due stranieri albanesi appartenenti alla sua stessa organizzazione criminale.